Ciao ragazzi, sono Marco e oggi parleremo di zanzare! Lo sapevate che le zanzare sono sulla Terra da più tempo dell'uomo? Lo provo un fossile di zanzare a vecchio di 46 milioni di anni. Addirittura? Ma le zanzare hanno sempre punto? Sembra di sì Alice, in alcuni fossili è stato addirittura trovato il ferro contenuto nel sangue che le zanzare avevano ingerito. Ma perché le zanzare ci pungono? Pungono per prendere poche gocce di sangue, che però contengono tutte le sostanze nutritive indispensabili per produrre un gran numero di uomo. Quindi sono solo le femmine che pungono. Ma perché dopo la puntura sentiamo pulita? Quando una zanzare punge, inietta un po' di saliva e questa causa una piccola reazione allergica che ci fa sentire più rico. Ma oltre ad essere fastidiose, le zanzare servono anche a qualcosa? Sì, le zanzare si notano anche dei nettari e quindi sono anche loro degli insetti impollinatori, un po' come le apie le farfalle. Sono inoltre fonti di cibo per uccelli, pipi e selli e anche per molti insetti acquatici che vivono nelle acque stagnanti. Che cosa c'entrano le acque stagnanti con le zanzare che volano nell'aria? C'entrano! Perché prima di volare le zanzare vivono proprio nell'acque stagnante. Guarda! Assomigliano alle vermiciattoli che nuotano liberi nell'acqua. Ma queste non sono zanzare. Invece lo sono. Si chiamano larve e sono zanzare appena nate. Quando escono dall'uovo hanno questo aspetto e vivono in acqua dove si nutrono filtrandola. Poco prima di diventare adulte, le larve smettono di nutrirsi e si trasformano in pupe che hanno questo aspetto. Dopo un paio di giorni, le pupe si vermano sul pello dell'acqua, si aprono e lasciano uscire le zanzare rute che tutti conosciamo. Larve e pupe vivono in tutti i tipi d'acqua? No! Sono in acqua stagnante o poco corrente, come quelle che si trovano in pozze, risaie o recipienti artificiali. La prima difesa contro le zanzare è proprio quella di trovare tutti i posti in cui possono svilupparsi le larve, anche in casa, in cortile o nel giardino. Ah! Possiamo trovarle anche nei bidoni che non hanno in l'orto. Esatto! In questo caso, il metodo giusto per eliminare le zanzare è coprire i bidoni con una zanzarina ben tesa, oppure svilupparli completamente, almeno una volta alla settimana. E in che altri posti possono trovare le larve di zanzara? Puoi trovarle anche nelle acque, dei vasi, dei sottovasi e dei tombini. Ma come faccio a sviluppare i tombini? Dove non si può togliere l'acqua, si possono usare dei prodotti che impediscono alle larve di diventare zanzare adulte. Ottimo! Niente adulti, niente punture! Beh, le zanzare non sono così noiose. Bene, alla prossima, ragazzi! Ma queste non sono zanzare. Esatto! Grazie! Grazie!